E voilà, chers amis, on è in Bolivia, on è partì, on è a SIS, avec Edgar, notre chauffeur. Ah, è un po' di musica andina, vai! E voilà, tutta la banda! E siamo partiti, vale, viva la Bolivia! Io sono a Peièdier, Evo Morales. E là, le chauffeur, il vient de me expliquer tutta un'Histoire. Sur le... Il y a les élections le 26 janvier, donc, dans 4 jours. Il me dit, putain, Evo se presenta ancora, on espère qu'il va être élu. E' perché c'è il sole qui a fait des choses per noi, c'è un indien, Edgar, donc voilà. L'autista mi diceva che fra quattro giorni ci sono elezioni, e che Evo Morales si presenta ancora, e dice, speriamo che sia eletto, perché è il sole che ha fatto delle cose per noi. Va bene, viva Bolivia, che viva Bolivia, yeah! Tu mi dices así, va abajo, non è problema. Ah, ok, grazie. Se tu mi dices así, va abajo, non è problema. Ok. Tu mi dices así, va abajo, non è problema. Ok. Questo funziona bene. Ah... Questo funziona bene. Si, si, ok. Si, si... Es que è molto resto. Eh, è questo, sì! L'amore mio amico, miro, lo che doiamo oggi è il turre di Saragona-Colorano. Sì, sì. Alla prossima.